Ciao amici di Tariato Games, buongiorno, ve l'avevo detto che se ci fossero state novità importanti sarebbe arrivato il video. E finalmente questo è il logo ufficiale di eFootball 2024, viene confermata la grafica che avevamo visto in Malesia. Konami ha mostrato questo logo, eccola qui l'immagine, nel loro account ufficiale Twitter eFootball. Prima è arrivato quello giapponese, poi è arrivata anche la versione europea, vi porto questa, se no vi avrei parlato in giapponese estremo, ma meglio così facciamo una figura di niente di meno. Grazie a Bismarck per la segnalazione, anche se ero pronto già a fare il video in versione giapponese, ma andiamo con quella europea. Allora, annuncio, lanceremo i Football 2024 il 7 settembre 2023. Questo aggiornamento ruota attorno al tema libertà di controllo del gioco migliorata per la creazione di chance, per la creazione di azioni, in cui gli utenti possono aspettarsi di gioco ancora più avanzata. Quindi, al di là del fatto che non c'è più lo schema di gioco, al di là della questione della manutenzione, il primo annuncio ufficiale di contenuto di Football 2024 è dedicato al gameplay. Libertà di controllo del gioco aumentata, migliorata, per la creazione di azioni, for chance, chance creation. Quindi, come dire, ci dice che ci saranno più possibilità di creare azioni. Quindi, dico io, deduco, che sarà un gioco più offensivo, sostanzialmente, detta così. Poi invece magari è comunque l'equilibrio fra attacco e difesa è lo stesso, ma avremo comunque più libertà di azione, allora a quel punto. Perché improved play control, liberty for chance creation, libertà di controllo del gioco improved, migliorata, per la creazione di chance, ripeto, per la creazione di possibilità, ma io intendo di possibilità di azioni. Inoltre, qui viene confermato che in concomitanza con l'aggiornamento prevediamo di implementare una manutenzione sull'arca scala dal 4 settembre e il 7 settembre. Ci auguriamo che tu sia pronto ed entusiasta per il lancio di Football 2024. Quindi, il gioco completo, completo e con i server accesi, sarà solo dal 7 settembre. Però, come detto prima, dal 4 settembre in poi, un po' di gameplay offline con le prove con le squadre autentiche, salvo aggiornamenti dell'ultimo, magari così, dovrebbe arrivare già da lunedì. Vedremo, ragazzi, lunedì mattina, lunedì 4 settembre, andremo a vedere un po' quello che succede. Se il gioco è aggiornato alla versione 3.0.0, ve lo gioco subito, provo, vi dico le mie primissime impressioni, ce le scambieremo con voi. Quindi, insomma, molto lentamente e proprio quasi al ridosso dell'uscita, però qualche cosina finalmente si muove. Molto poco, insufficiente, ovviamente rispetto a tutto quello che vorremmo sapere. La Master League, il matchmaking della Cop, l'editor, il crossplay, la grafica. Però, prima o poi c'era da partire e siamo partiti, almeno è qualcosa. Ragazzi, per il momento è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Improved Play Control Liberty for Chance Creation. Fatemi un po' sapere. Chance, vabbè, Chance è meglio. Chance Creation. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate e basta. Se arriva qualche altra novità, sono sempre qua fino a domani mattina sul Presto, poi dopo il prodotto del qualche giorno sarà fuori. Grazie per l'attenzione e al prossimo video. Ciao!